Ben 76 ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati trovati dai carabinieri forestali in un'area boschiva a Subbiano. Si tratta, spiegano dall'arma, di 43 bombe da mortaio da 2 pollici, 23 bombe da mortaio da 2 pollici fumogene, 9 bombe da mortaio da 3 pollici ed una granata da fucile, trovati nei primi giorni di aprile in tre diverse aree ma nel raggio di circa un chilometro, dove pare che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi avessero una linea di sbarramento all'avanzata degli alleati. Secondo quanto previsto dal protocollo, prontamente avviato dai militari, è intervenuta la compagine altamente specializzata del genio pontieri dell'esercito italiano, che ha prelevato gli ordigni per farli brillare all'interno di una cava dismessa poco distante. È possibile in aree, soprattutto montane, imbattersi in ordigni bellici inesplosi, spesso risalenti ai due conflitti mondiali. La prima cosa da fare, spiegano i carabinieri, è non toccare nulla e chiamare subito le forze di polizia per segnalare il ritrovamento e soprattutto non divulgare la notizia per non incorrere in pericolose curiosità o angoscianti allarmismi. Esiste un protocollo attivo a livello nazionale che con velocità e sicurezza interviene per scongiurare qualsiasi evento nocivo all'incolumità pubblica.